Buonasera amici, benvenuti a tutti, questa sera per voi, la festa di Diego, non vuoi! Allora, adesso ci troviamo qui con Rossella Versi, che abbiamo avuto occasione un mese fa circa, di fare un'intervista, che però non è che ci ha raccontato molto di questa sorpresa di questa sera, perché lei adesso è la cantante dell'orchestra di Diego Zamboni. Eh sì, vi ho fatto un bello scherzo, anche a me l'ho fatto lo scherzo. D'ogni modo noi eravamo molto informati, perché abbiamo le nostre spie, soprattutto una che tu conosci molto bene. Eh sì, immagino che possa essere, immagino, ho già capito. Ascolta Rossella, come ti trovi con Diego? Mi trovo benissimo, è un ragazzo meraviglioso, è una grande scuola per me, che sono partita praticamente da zero, e trovarmi sul suo palco, appunto con la sua guida, per me è una grande esperienza. Ma guarda, io ho guardato alcuni video che avete suonato in diversi locali, e sinceramente complimenti, eh, che la cavi molto bene. Grazie, sarà che la passione per la musica che ho mi aiuta, mi dà questa spinta, questa grinta, passatemi il termine. Eh, mi piace tanto farlo, sarà quello. No, no, poi ho visto anche che avete un bellissimo affiatamento, tu e Diego, questo è molto importante per lavorare insieme. Sì, sicuramente, il feeling e l'intesa sono indispensabili, ci stiamo lavorando e insomma speriamo di migliorare sempre più. Certo, com'è cambiata la tua carriera dopo che sei con lui? Eh, la passione è sempre quella, la passione che mi guida è sempre quella, con Diego a livello professionale, senza nulla togliere l'orchestra di Moreno, comunque è tanta roba, l'impegno è tanto, ma la voglia di fare è tanta anche quella, quindi spero di continuare così. Ma sicuramente, sicuramente perché abbiamo sentito prima Diego e lui è veramente molto entusiasta della cantante. Meno male, meno male, l'esame è quasi superato. Sì, superato direi. Rossella, noi ti lasciamo andare, ti facciamo tanti auguri di una bellissima carriera con questa orchestra, perché veramente è una bella orchestra. Sicuramente vi faremo divertire, seguitevi al CenoWeb. Certo, grazie Rossella, auguroni. Grazie, ciao. Sì, ciao. Sì, ciao.